Siamo alle pagine sportive che ovviamente analizziamo dando un'occhiata alla Lega Pro che ieri ha visto il ritorno alla vittoria del Gubbio, però prima diamo anche un occhio a un ex Gubbio che ieri si è ritagliato un nuovo momento di gloria, si tratta dell'ex portiere del Gubbio Eugenio Lamanna che aveva esordito con la Roma in Serie A parando subito il rigore agli Aici ieri si è tolto lo sfizio di pararlo a Tevez e si becca anche il voto più alto insieme a quello di Tevez che ha stato autore di una prova a dir poco maiuscola voto abbassato per il rigore parato dalla Manna e Lamanna dopo gli Aici ferma anche Tevez prende 7, ferma Tevez entrando da riserva da tenere in considerazione scrive la Gazzetta per una squadra che frequenta le coppe dentro lui al 119 e vai con i rigori sarebbe la dimostrazione insomma gli abbiamo dedicato una copertina rosso e blu in quella puntata di fuorigioco di dicembre ricordiamo che parò 5 rigori nei suoi due anni di Gubbio insomma non fu per caso tra l'altro uno in una finale anche in quel caso una finale playoff e giustamente Lamanna si gode questo grande momento andiamo a vedere però la Lega Pro con i quotidiani nazionali iniziando dal giornale dal Corriere dello Sport che nel girone B dedica peraltro al Gubbio soltanto un piccolo trafiletto Gubbio Forlì 2 a 1 c'è la doppietta di Loviso abbiamo ieri sera già mostrato le immagini e le interviste che più tardi potrete rivedere anche sul nostro sito trgmedia.it a proposito potremo vedere anche l'home page del sito con il nostro Luigi Picciolini vedete in apertura proprio la vittoria del Gubbio Loviso show il Gubbio supera 2 a 1 il Forlì a più 6 dai play out la squadra di Acori anche se per la precisione va detto che a 6 punti dal Gubbio c'è la Pistoiese che deve però recuperare due partite potrebbe restare a 33 ma potrebbe anche ovviamente fare punti torniamo ai quotidiani con il Teramo che ora è solo in vetta Scipioni si scatena il Teramo batte il San Marino e approfitta del pareggio dell'Ascoli con la Reggiana 1 a 1 il Teramo è primo e l'Ascoli deve inseguire questo per la Lega Pro andiamo alla gazzetta abbiamo visto ovviamente il voto di Lavanna e andiamo a vedere la pagina dedicata alla Lega Pro Magico Loviso il Gubbio risale Forlì che rabbia le proteste del Forlì per un rigore reclamato proprio al 93 sull'ultima azione anche se ci si divide sul fatto che gli annarilli che in effetti sembra aver commesso il fallo potrebbe averne subito uno a sua volta proprio nell'uscita in ogni caso per una volta se vogliamo al Gubbio è andata bene e a Cavaldonato non si guarda in bocca siamo ai quotidiani regionali il Perugia sta arrivando titola il giornale dell'Umbria Loviso della salvezza è Gubbio mentre la Ternana è in piena crisi questo per quanto riguarda la Serie B Grifo attacco ai playoff dopo la vittoria di sabato ad Avellino e davanti la Rivoluzione nel ritorno incrementata di un terzo la media gol e grande protagonista Diego Falcinelli e la B è un bene rinunciabile per la Ternana che invece però vede le streghe dopo il suo pensate ottavo stop casalingo anche se stavolta col Carpile prima in classifica Loviso è tornato il digiuno è finito dopo 112 giorni il Rosso Bluto non ha far festa al Barbetti pensate non vincevano dal 30 novembre ed era ancora autunno e si vede che è arrivata la primavera l'altro ieri è finito l'inverno decisiva la doppietta del play che pone rimedio a una papera di Ianna Rilli la prima dobbiamo dire della stagione Sollieva Cori ora la salvezza è vicina il tecnico elogia il gruppo visto una bella reazione mentre a Rigoni il direttore tecnico forlivese Amaro perché non ci danno i rigori e Rosato parla della vittoria più importante andiamo alla Corriere, Camplone, Sigode, Diego il Perugia ha il suo Diego e Falcinelli Tessera invece teme il Liberati che non è tutt'altro che un fortino Falcinelli profeta in patria record e gol da playoff è arrivato a 11 tutte decisive la doppietta di Avellino per la svolta del Grifo prossimo avversario il Crotone e poi due volte Loviso il Forlì al tappeto salvezza in tasca punizione bombe rigore decisivo provocato da Casiraghi nel mezzo per la verità è stato provocato da Cais in realtà nel mezzo un infortunio di Gianna Rilli per il Gubbio tre punti d'oro il playmaker da record superato Totò Caruso e lui il re dei bomber tuttino i regolanti due ruoli da registrare il regista e Casiraghi sono i top Luciani è la vera sorpresa giornataccia per il portiere bravo Rosato magic moment per Danna e a Corri dice ma quale rigore era fallo per noi risponde ai Forlivesi siamo alla nazione lanciata la volata playoff del Perugia ancora un piccolo sforzo per garantirsi la salvezza poi via lo sprint che conta intanto si punta sul recupero di Giacomazzi il risveglio di Massimo Loviso a Gubbio con due gol del centrocampista che arriva a 11 si piega il Forlì scalano bellamente la classifica rosso-blu a tempo scaduto espulso Mancosu che mancherà dunque domenica a Ponte d'Era con il tutto cuoio una vittoria meritata dice a Corri chiudiamo col messaggero Grifo la prova dei nove intesa come gli attaccanti e qui ci sono Ardemagni e Falcinelli che fanno la staffetta anche se ieri Falcinelli in conferenza stampa è stato un po' come dire velenoso e ha detto abbiamo giocato insieme soltanto pochi minuti forse sarebbe il caso di provarci un po' di più dopo il colpaccio di Avellino tiene banco la questione Ardemagni e Falcinelli insieme i numeri i motivi tattici playoff bisogna crederci conti alla mano con gli altri 16 punti aggancio all'ottavo posto Lanzafami sognavolte si realizzano e l'esultanza con scivolone di Lanza impazza sul web Lanzafami è scivolato mentre rincorreva Falcinelli dopo il 2-1 Gubbio ci pensa Loviso ha fondato il Forlì una doppietta del centrocampista cannoniere permette a Rossoblu di vincere in casa dopo 113 giorni come detto l'ultima volta il 30 di novembre Sir siamo alla pallavolo successo con sorpasso vittoria del Perugia a Monza 3-1 superano Verona conquista nel quarto posto Atanasievic e From autori della rimonta tornando al calcio Serie D Voluntas Chegrinta K.O. dopo 17 minuti poi il pari e il Gualdo fa 41 con Bussi batte il Sandonato e sale in classifica invece notte fonda per il Foligno tracolle e fischi sconfitto in casa dalla Massese 3-2 Falchetti inguardabili e contestati da maschi contro i giocatori c'è chi rischia di essere cacciato è come se giocassimo una vichevole non voglio che il finale di stagione diventi un calvario andiamo agli altri quotidiani per vedere la Serie D e ovviamente i campionati dilettantistici ma anche le altre discipline il Foligno si sveglia ancora troppo tardi Toscani in gol con Falchini due volte Re Marini dopo il novantesimo assegno Fermanelli e Vegnaduzzo ma è appunto tardi tutti dietro di Ceramaschi mancava solo il carro funebre e poi Gualdo Casacastalda quanto basta Salvezzo ok Redivivo Bussi firma il gol vittoria contro il Sandonato Tavernelli intanto non si ferma il Sansepolcro 3 a 0 in trasferta alla Colligiana continua la corsa verso i playoff Villa Biagio pari che vale una vittoria soprattutto per il Siena perché? perché pareggia al novantatresimo con Guastalvino appoggi Bonzi 2 a 2 permette al Siena che vince con i Rieti di tornare da solo in testa il Trestina reclimina subito poi il Ponzacco cale il poker in scioltezza 4 a 0 dei Toscani contro i Bianconeri Alto Tiberini ma chi sta festeggiando in Alto Tevere il Città di Castello che ormai ha la Serie D in tasca Todi Flop consegna la partita e il campionato Tuderti battuti 1 a 0 a Castel del Piano rissa finale addirittura con i Carabinieri Ciuccarelli trionfa da ex Ciuccarelli anche un ex giocatore del Gubbio Tris terzo posto Donati da Urlo esalta la Narnese ma soprattutto appunto chi ha da esultare è il Città di Castello che non troviamo nei quotidiani perché ha giocato l'anticipo di sabato intanto Pontevecchio efficace Juventina Amaro Esordio per Doria vincono i Ponteggiani 2 a 1 in gol anche l'Eugubino Marco Gaggiotti a proposito di Eugubini sicuramente se la sta godendo anche un altro Eugubino si tratta di Leonardo Argentina che in promozione viede vicini playoff con il suo Real Pitulum che batte 1-0 in Lama Chiezi fa esplodere il Morandi e il Lama perde quota andiamo alla pallavolo Siru un successo vero vittoria quarto posto battuta in rimonta Monza Tanasievic 22 punti invece Carachiri Alto Tevere c'è da Milano e ora è ultima in classifica brutta prova di Biancorossi sconfitti in 4-7 non va meglio alla pallacanestra Umberti dei nauno femminile sonora lezione a schio 67 a 30 davvero un schiaffo perentorio quello subito dalle ragazze di Serventi lasciamo il giornale andiamo al Corriere ripartendo dalla serie D e dal peggior falco dell'anno sconfitto e anche contestato a fine partita confronto teso tra squadre e tifosi ormai tutte le squadre in crisi sembra che siano costrette ad andare davanti ai cancelli a parlare con i tifosi per dirsi cosa non sappiamo tanto c'è chi vince e c'è chi perde da maschi duro basta via crucis la squadra si sta spegnendo e gioca con ritmi da amichevoli Sansepolcro vittoria con le valdelze è terzo posto il guardo Casacastalda bussa il Sandonato bussi anzi il gioco di parole col nome dell'autore del gol giunti oggi meno belli ma più pratici e Villa Biagio cuore rimonte il gol di Guastalvino che forse regala la promozione diretta al Siena meriterebbe il premio partita dalla società bianconera Trestina travolta Ponzacco quattro gol per un brutto K.O in eccellenza Malocai di rigore caro Todi addio sogni di gloria il tutto a beneficio del città di Castello calcio a cinque cuore grinta del bastardo portano guai alla Tifernum e poi la pallavolo Sir missione compiuta è quarto posto con il corriere anche Alto Tevere vergogna che ha poi in casa ultimo posto mentre la femminile il bel gioco è della Lucky Wind Trevi tre punti però vanno al Todi basket schio sempre più scatenato 37 punti di margine a Umbertide e poi la bella storia che arriva dal podismo festa applausi Enrico Pompei 42 anni di corsa è stato bellissimo correre insieme a tanti amici ringrazio tutti per l'affetto la maratona Pompei vincono Antonino Irene Enriquez chiudiamo con la nazione siamo davvero in chiusura è un foligno allo sbando totale il titolo sulla D è un gol di Bus si esalta il Gualdo mentre per il basket che batosta per l'acqua e sapone schio domina dall'inizio alla fine stop casalingo invece per Gubbio nel nazionale direttante 83 a 77 con il Pescara la pallavolo con gli ultimi due titoli Sir Safety volta pagina il riscatto col Monza l'Alto Tevere invece cade di nuovo in casa e non c'è niente da fare invece nel maschile Foligno tiene testa ai laziali 3 a 1 mentre Gubbio fa il colpaccio con l'illustre Ravenna vince sul parquet Romagnolo per 3 a 2 è tutto per la nostra rassegna stampa ovviamente l'informazione prosegue su trgmedia.it con i nostri flash radiofonici dalle 10 ogni ora gli aggiornamenti in particolare sul blitz antidroga di cui vi abbiamo parlato in apertura che è iniziato stamattina alle 6.30 da parte della polizia già 10 arresti in Alto Tevere tra la città di Castello e San Giustino giovani del posto per spaccio di stupefacenti è davvero tutto grazie buona giornata ovviamente con la nostra informazione di stupefacenti di stupefacenti di stupefacenti di stupefacenti di stupefacenti grazie